Siamo a Quarto nella chiesa San Castrese, questo è il nostro centro vaccinale frutto della grande sinergia tra Diocesi di Pozzuoli e Amministrazione Comunale e l'Asra Napoli 2 Nord. Un messaggio di speranza che parte soprattutto dalla organizzazione e dalla grande volontà che si sta esprimendo in questi giorni attraverso i nostri medici, i volontari della protezione civile. E lei era la risposta che la città di Quarto vuole dare per la lotta contro il Covid-19. Siamo felicissimi di poter collaborare con il sindaco per questa opera che veramente è importante per ridare pace, serenità e gioia a tutti i nostri fratelli che stanno nella sofferenza. Adesso tocca a noi, vacciniamoci tutti e andiamo avanti verso una nuova ripresa, verso la speranza di ritornare alla vita normale. Grazie a tutti i nostri fratelli che stanno nella sofferenza.